Musica Incidente oggi, giovedì 8 marzo intorno alle 15 in via Stefano Bruda, provinciale che collega Busano a fronte. Un fuoristrada Toyota Land Cruiser condotto da un uomo, un 66enne di Rivarolo Canavese, forse abbagliato dal sole e uscito di strada ribaltandosi nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e Rivarolo Canavese, l'elicottero dei Vigili del Fuoco, i volontari di Rivarolo, i Vigili del Fuoco di Ivrea e i carabinieri della Compagnia di Veneria Reale. L'uomo è stato estratto dalle lamiere del mezzo dove era rimasto incastrato. Dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale di Cirie, non è in pericolo di vita, ma certamente in corso da parte dei carabinieri sulla dinamica. L'uomo è stata trasportata all'ospedale di Cirie, non è in pericolo di Vigili del Fuoco di Vigili del Fuoco di Vigili del Fuoco. L'uomo è stata trasportata all'ospedale di Cirie, non è in pericolo di Vigili del Fuoco di Vigili del Fuoco di Vigili del Fuoco.